Mago di Azz e Friends TV presentano l'Oroscopaz, uno speciale oroscopo segno per segno su salute, soldi e amore. L'oroscopo per chi non crede all'oroscopo. Ariete, ci sarà una fase dinamica della vostra carriera. Cambiamenti da tempo sperati e decisioni importanti finalmente si concretizzeranno, anche in amore. Toro, periodo di raccolta di benefici inaspettati da parte di parenti e di amici. Viaggi e traslochi in arrivo. L'amore procederà a gonfie vele. Gemelli, sprigionate energia da tutti i pori, grazie alla grande creatività. Per restare in forma praticate più sport e meno alcol. Amore altalenante. Cancro, seguite le vostre intuizioni, anche se sono controcorrente rispetto alle idee altrui. Ci sono interessanti prospettive per il vostro lavoro. Occhio alla dieta e al partner. Leone, attraverserete un passaggio a vuoto. Non lasciatevi abbattere dalle circostanze e percorrete nuove vie. In amore non è tutto oro ciò che luccica. Vergine, diversi progetti tutti insieme potrebbero farvi soccombere. Scegliete con cura le vostre priorità. Siete all'inizio di un nuovo ciclo professionale. Amore in corso. Bilancia. Piccoli spostamenti saranno favorevoli per la vostra carriera. Se siete pizzicati dal demonio, la vostra ispirazione sarà feconda. Amor lontano, il cielo aiuta. Scorpione. Novità estremamente importanti all'orizzonte. Raccogliete perciò tutte le energie perché il gioco vale la candela. Ma dovrete affrontare enormi sacrifici anche con il partner. Sagittario. Attivi e coraggiosi, ecco come dovete essere questa settimana. Perché quando il gioco diventa duro che i duri cominciano a giocare. In amore preservate la vostra coppia. Capricorno. Sul piano finanziario la prudenza non è mai troppa. Dopo un periodo a fare la cicala è arrivato il momento di fare la formica. Qualche temporale in amore. Acquario. Consultate la vostra agenda e scegliete un team vincente per questa nuova avventura lavorativa. In amore, siate meno aggressivi e più delicati nei rapporti. Pesci. La vittoria finale è alla vostra portata. Soprattutto se lavorate nella politica, nella pubblicità o nel turismo. Mettete a frutto tutto il vostro sapere. Incontro galante in arrivo. Grazie e alla prossima da Bago di Haze Friends TV